Si chiama Zero Farina Naturale, la nuova linea di prodotti che ha lanciato la Polselli Spa, l'antica azienda molitoria della provincia di Frosinone che da circa un secolo è specializzata nella produzione di farine per pane, dolci e pizza. Questa importante realtà, tra le prime in Italia, oggi guidata con esperienza e professionalità dalla terza generazione, ha presentato la nuova linea lo scorso 30 settembre in occasione dell'Open Day organizzato appunto dalla grande famiglia Polselli, una giornata di festa a porte aperte rivolta alla conoscenza dell'azienda e dell'Accademia Il Ginnazio del Molino. Il percorso è poi proseguito a Palazzo Tronconi dove sono state presentate la linea Zero Farina Naturale insieme alle farine alternative orzo tostato con avena e segale con semi di lino e di girasole. Un interessante appuntamento che ha visto la partecipazione di operatori del settore, giornalisti, chef, maestri pizzaioli della panificazione, distributori nazionali ed internazionali provenienti dal Portogallo, Stati Uniti, Irlanda e Belgio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti.